In Casa Russo Calcio il mercato in entrata registra ancora dei movimenti. La squadra che affronterà per il terzo anno di fila il campionato di prima categoria sta cercando di rinforzarsi per migliorare il settimo posto raggiunto nella scorsa stagione. Dopo il ritorno a riposto del difensore Sebastiano Parisi è ancora una volta il Milo a cedere uno dei suoi pezzi pregiati. Stavolta si tratta dell'attaccante Gaetano Cartellone, classe 1997, cresciuto nelle giovanili del giarre calcio con cui ha anche disputato dieci incontri in eccellenza, che con la maglia del Milo ha segnato sette reti in venti partite giocate. Cartellone, classico centravanti di peso che ha nel colpo di testa uno dei suoi punti di forza, andrà ad arricchire un parco attaccante in cui sono ancora incerte le presenze di Napoli e Dumitrascu, colonne del reparto offensivo nel corso della scorsa stagione. A breve il mercato estivo entrerà nel vivo e, come sottolineato anche dal nuovo allenatore Antonello Musumeci, il russo calcio cercherà di mantenere per quanto possibile intatto il gruppo che tanto bene ha fatto lo scorso anno, cercando di trovare i giusti puntelli per rinforzare la squadra.